Salve a tutti, ci ritroviamo a inizio anno con questo appuntamento, anche oggi vi voglio parlare di due iniziative molto importanti, non solo per la banca, ma soprattutto per i nostri clienti, per i nostri risparmiatori. Una riguarda proprio i risparmiatori che dal primo fair buy partirà questo nuovo prestito del famoso libretto Risparmia Tutto che abbiamo già fatto ad ottobre, adesso sta in scadenza il prestito obbligazionario al 31 gennaio e quindi riproporremo il libretto Risparmia Tutto e al libretto Risparmia chi sottoscriverà questo libretto verrà dato in omaggio anche una polizia assicurativa per 12 mesi gratuita per tutta la famiglia. Quindi è questo prodotto che ha già riscorso nella passata edizione un enorme successo e per questo lo vogliamo e lo abbiamo voluto ripetere pure perché ci è stato chiesto dai nostri risparmiatori di poter ripetere questa iniziativa che abbiamo fatto nel 2013 e quindi partirà tutto questo dal 1 febbraio, quindi presso la nostra sede e le nostre filiali ci saranno delle persone che dedicheranno del tempo a questa iniziativa e quindi stanno a disposizione ad accogliere un poco i nostri risparmiatori, sia quelli che già lo sono ma anche quelli che vogliono diventarlo attraverso questo meccanismo del libretto Risparmia Tutto. L'altra novità importante è la riapertura della filiale sede, quindi quella Lancusi in Corso San Giovanni del sabato mattina. Noi riprendiamo questa tradizione, quindi da sabato 1 febbraio saremo aperti presso la sede di Lancusi, sabato dalle 9 alle 13 e ci sono i nostri operatori ad accogliere per le vostre operazioni, soprattutto per le persone che durante la settimana dal lunedì al venerdì hanno problemi di lavoro, hanno problemi di famiglia, qualsiasi tipo di problema che non gli consente di venire in banca, questa è l'occasione per poterlo fare e scambiarsi anche delle informazioni con i nostri operatori e quindi fare le normali operazioni che vengono fatte durante la settimana dal lunedì al venerdì, come presso la filiale di mercato San Gerino, rifaremo l'apertura serale dello sportello, quindi apriremo dalle 4, dalle 16 e 30 fino alle 19 per consentire soprattutto a chi lavora fuori e quindi non lavora sul nostro territorio, ma lavora fuori e quindi rientra a casa dopo le 3 e mezza, gli consentiamo di poter regarsi in banca e fare le normali operazioni di banca, quindi queste sono le due iniziative che riguardano questo mese, ma poi continueranno perché il prestito, questo libretto risparmia tutto, avrà questo tempo dal 1 al 31 marzo, mentre per quanto riguarda le aperture sia del sabato che l'apertura serale va avanti fino al mese di giugno, poi interromperemo per le ferie consuete per far ruotare i dipendenti e quindi noi dal 1 febbraio fino al 30 di giugno saremo aperti a mercato San Severino dal lunedì al venerdì dalle 16 e 30 alle 19, mentre il sabato dalle 9 alle 13 presso la sede di Lancusi in Corso San Giovanni. Penso che questo è un modo per continuare a stare vicino ai nostri clienti, vicino al territorio dove noi operiamo, vicino ai nostri risparmiatori, ai giovani, vicino alle famiglie, a tutti quelli che hanno scelto di stare con noi e di crescere insieme a noi come banca di credito cooperativo, come banca del territorio.